Brian, posso entrare? Ti disturbo. Eh? Blair, che cosa ci fai qui? Scusami, ma non ti aspettavo. Beh, mi sono decisa all'ultimo a venire a parlarti. Sinceramente non sapevo se facevo bene oppure no, ma l'amicizia di Sky mi ha spinta a farlo. Che cosa vorrebbe dire l'amicizia di Sky ti ha spinta a venire qui? Non sto capendo. Beh, ovviamente non capisci, è appunto per questo che volevo parlarti, per assicurarmi che non combinassi altri guai. Senti, Blair, non sarai mica venuta qui per litigare perché hai proprio la faccia di una che è venuta qui a litigare. E io non ne ho voglia, non di litigare con te poi, che non sei neanche più la mia ragazza. Ma figurati, guarda, non sono qui per litigare, anzi, tutt'altro, ti ho detto, sono qui perché tengo a Sky e volevo parlarti del tuo comportamento. No, tu sei proprio qui per litigare, è questo che non sopporto e non sopportavo di te. Ogni scusa era buona per litigare con me, Blair, anche adesso che ci siamo lasciati, vieni qui a litigare. Ma io questa cosa non la sopporto. Ora dici che è per Sky? Ma non può essere vero, perché sei qui per Sky? Perché non voglio che tu la faccia soffrire. Ti conosco, Brian, ti conosco da quando sei piccolo. Nessuno ti conosce meglio di come ti conosco io. E quindi sono preoccupata che tu possa farla soffrire con l'arrivo delle francesi e di quella Annette. Anche tu con questa storia di Annette, basta. È una mia amica e mi piace come amica, appunto. Ma amo Sky. Certo, ma dimentichi che io ti conosco. Potrei anche aver incantato Sky. Ma a me non la dai a bere. Ti conosco, Brian. Quante volte mi hai tradita? Eppure dicevi di amarmi. Chi mi dice che non stai facendo la stessa cosa con Sky? Mi hai tradita con MC. Pensavi di essere innamorato di lei. Ma non è stato un vero e proprio tradimento, quello. Stanno litigando. Forse non è il momento più adatto per interrompere. Mi conviene lasciarli sfogare ed ascoltare in silenzio. Ok, mettiamo che quello con MC non sia stato un vero tradimento. Ma vogliamo parlare di Cherry? Del tuo bacio con Cherry mentre eri assieme a me? Anche quello non lo definisci un tradimento? Beh, ok. Forse quello è stato un tradimento, ma è stato un tradimento che è durato pochissimo. È stato solo un bacio e via e basta. Ma certo, ma sempre un tradimento è stato. Io ne ho sofferto. E oltretutto... Quando pensi di dire questa cosa a Sky... Sei assieme a Sky? Ma non le hai detto che hai baciato sua nipote? Perché c'è bisogno che lo sappia? Insomma, può dirglielo Cherry, ma è stato un bacio insignificante. Non conta nulla, dai. È stata una sbandata. Era il momento. Io penso che Sky dovrebbe saperlo. Ma non posso essere io a dirle una cosa del genere. Dovreste essere o tu o Cherry. Dovreste essere sinceri su questa cosa. Insomma, fa parte del passato, ma va raccontato. Non ci posso credere, ho sentito bene. Sono scioccata. Che cosa? Ma c'era Sky? Brian, ma non l'hai vista entrare? No, perché stavo guardando te. Hai visto cosa hai combinato, Blair? Sky! No, no. Io volevo solo aiutarla. Invece hai rovinato tutto. Sul serio, Brian? Stai dando tutta la colpa a me? Ma certo. In fondo hai sempre fatto così e così. Che fai? Scarichi la colpa su di me. Ma è colpa tua. Sei stato tu a baciare Cherry e a non dire nulla a Sky. Non ti pare un'informazione da sapere? Se tua nipote bacia il tuo ragazzo, ok? Non c'è più nulla tra di voi, certo. Ma magari le avrebbe fatto piacere saperlo. Ed ora cosa facciamo? Sky è evidentemente scioccata. Abbiamo combinato un guaio. Ma lo risolveremo. Che ridere! Cherry! Hm? Ciao, zia Sky! Perché? Mi sembra che la zia Sky esca il fumo dalle orecchie. Sei forse arrabbiata, zia. Arrabbiata? Mi chiedi se sono arrabbiata? Non so se dire che sono amareggiata, confusa, delusa. Cherry! Ma quando pensavi di dirmelo? Ehm, zia, dirti cosa? Non sto capendo. Cos'è che non ti ho detto? Qualcosa mi dice che sono in cima alla classifica delle nipoti preferite. E vai. Easy! Ma anche tu lo sapevi, ne sono certa! Ok, sono appena discesa di nuovo nella classifica. Che cos'è che ha fatto Cherry e che io saprei? Cherry ha baciato Brian. Hai avuto una relazione con il mio tesoruccio amoruccio senza dirmelo? Oh, per bacco. No, zia, veramente. Mi ha baciata lui per primo. Poi io l'ho ribaciato, ma era solo un ripiego. Perché io ero arrabbiata con Sebastian. In realtà, in realtà, ho sempre voluto Sebastian. Ma ho visto che Brian era disponibile, così l'ho baciato. Più che altro per far ingelosire Sebastian. Non ho mai voluto Brian, era un ripiego. Si può dire che un po' l'ha usato, poveretto. Tutti voi sapevate questa cosa. Ed io ero l'unica all'oscuro. Ma come avete fatto a non dirmi nulla? Cherry, non ti pare un'informazione importante da dare alla ragazza di Brian? Ossia, a tua zia? E tu, Easy, stessa cosa. No, zia, non puoi dare la colpa anche a me. Insomma, è stata lei a baciare Brian. Io cosa c'entro? Easy, ma non è neanche colpa mia. Dai, zia, tu mi racconti di tutti i ragazzi che baci. Non mi pare. Ragazze, quanto è successo è gravissimo. Ma non lo capite. Brian, baciando te, ha tradito Blair. Non ci posso credere se voi non lo capite. Ma che valori ha una persona che tradisce così la propria ragazza? Che cosa? Se non l'hai capito, Cherry, penso che zia Sky sia più infastidita del fatto che Brian ha tradito Blair, più che del fatto che sia stata tua a baciarlo. Insomma, è delusa dal fatto che Brian abbia tradito qualcuno. Almeno io ho capito questo. Andiamo a fare merenda. Oh, d'accordo, dai, le passerà, mamma mia. Niente da fare, la decima chiamata che le faccio e non mi risponde. Non risponde neanche a me. Ma dici che mi voglia lasciare, Blair? Se Sky mi lascia, beh, lo considererò colpa tua. Ma sei proprio un bambino, Brian. Non è colpa mia per nulla. Questa storia doveva venire fuori. Dovevi essere sincero. Non ti pare un'informazione da dire? Quindi non è colpa mia. Non puoi prendertela con me. E poi ero venuta solo per assicurarmi che tu non la facessi soffrire. Quello che è accaduto non era mia intenzione. Sì, però ora, quello che ha perso qualcosa sono io. Io amo Sky e non la voglio perdere. Non per colpa tua. Senti, ecco che cosa facciamo. Andiamo a casa sua. Non ci risponde, beh, le fiombiamo lì, in camera. Dovrà parlarci. Ok, è una buona idea. L'unica buona idea che hai avuto oggi. Per fortuna non sono più la tua ragazza. Ma che cos'hanno tutti in questi giorni? Sembrano impazziti tutti quanti. Guarda papà, è a casa di tua madre. E mia mamma non lo vuole più vedere né sentire. È arrabbiatissima. Ed ora zia Sky è arrabbiata con me. Per una cosa che è accaduta secoli fa. Lei neanche era qui, ma dai. È in questi momenti che mi gustò il fatto di essere una single. Niente guai, niente rotture. Fantastico, direi. Forza, c'è, riprendiamo. Alle single. Ed ora chi è? Magari è Liam, è tornato. No, dubito. Deve ancora chiarirsi con la mamma. Vado ad aprire. Però tanto che mia madre non combini qualche guaio con Liam. In fondo ne è ancora innamorata. Questa cosa mi sta facendo pensare che quasi quasi lascio perdere pure i francesi. Ma chi li vuole i drammi d'amore? Voi due. Beh, immagino sarete qui per zia Sky. Complimenti, eh? Le avete detto voi del nostro bacio. Io non l'ho detto proprio nulla. È stata Blair. Brava, eh? Blair, ma perché l'hai fatto? Hai voluto rovinare tutto? Ora zia Sky ce l'ha con me. Sentite, io vado da Sky. Non è colpa mia. Stavo parlando con Brian al garage di questa cosa e... C'era Sky e non ce ne siamo accorti. Ha sentito tutto perché ha origliato. Ed ora io come faccio? Pace con zia Sky. Sai, non voglio che sia arrabbiata con me. Non c'è mai successo di litigare. E dovremmo farlo per quello, per Brian. Ma no di certo. Cherry, ti ho detto che non è arrabbiata con te. È arrabbiata con Brian. È arrabbiata del fatto che lui possa essere un traditore. Delizioso. Tu dici? Ma sembrava arrabbiata anche con me. E anche un po' con te. Ma no, la cosa con noi le passerà. È solo un po' amareggiata con noi due perché le abbiamo omesso questo dettaglio. Ma questa è una cosa che le passerà su via, dai. Non so come fai ad essere così tranquilla. Perché non ho fatto nulla. Chi non ha nulla da temere non teme. E questo è un detto, non l'ho mai sentito. È un detto che mi sono appena inventata. Ma è una cosa davvero profonda. Brian. Sky dove? Se n'è andata. Che cosa? Stai scherzando, dove è andata? Beh, leggi quella lettera. Io l'ho già letta. Che cosa? L'ho ferita. Ed ora devo cercare di riconquistare la sua fiducia. Ed è colpa tua, Blair. Ancora? Ti ho detto che non è colpa mia, ma tua. Comunque, non siamo qui per litigare noi due, ma per risolvere il problema con Sky. Cosa ti ha scritto? Per Brian. Caro Brian, se mai troverai o ti daranno questa lettera, sappi che sono distrutta. L'ho delusa. Non posso stare con questa sensazione addosso. Ho deluso Sky. Aspetta, dice, non per il fatto del bacio con mia nipote, ma perché hai tradito Blair. È delusa per me. Già, a quanto pare tiene molto alla tua amicizia. Hai tradito la tua ragazza. Non pensavo fossi capace di una cosa del genere. Se sapesse tutti i comportamenti e atteggiamenti che hai avuto con le altre ragazze mentre eri con me. Che vuoi dire? Che non ti sono stato fedele? Per nulla, Brian. Per nulla. E ringrazio il cielo di aver aperto gli occhi e di essere con Norman. Beh, non ero così male come ragazzo. Ci tenevo davvero a te. E il fatto che magari mi invaghissi di qualcun'altra, beh, era anche un po' colpa tua. Lo vedi? Dai sempre la colpa agli altri. Come può essere colpa mia? Perché litigavamo sempre e non mi sentivo capito da te, ma dalle altre. Ecco. Sì, sì, va bene, certo. Comunque questo non è più un mio problema, ma è un problema di Sky. Cosa che comunque lo fa diventare anche un mio problema, perché è mia amica. Comunque, pensavo avessi dei valori. Quando eri con Blair e ti sei innamorato di me, noi l'abbiamo sempre rispettata. Sì, parla del fatto che comunque ci siamo trattenuti dal baciarci, fin quando non ho deciso di lasciarti. Perché non voleva che ti tradissi. Per lei era importante. Infatti ci siamo baciati subito dopo che ti ho lasciata. Però era per rispettarti e non tradirti. Beh, Sky ha proprio dei valori. Era innamorata di te, ma nonostante tutto non ti ha baciato solo perché eri assieme a me. Tu l'avresti baciata subito se non ti avesse frenato lei. No, non è vero, Blair, e dai. Se hai tradito Blair, che era la tua ragazza, chi mi dice che non lo farai anche con me? Ma perché lei la amo? Insomma, è vero amore con Sky. Scrive ancora, per me tradire qualcuno non è un'opzione accettabile. Scusami, Brian, scusatemi tutti se sono sparita così, ma ho approfittato del viaggio a Londra con Norman. Eh? Sì, è partita per Londra con Norman. Beh, doveva dirtelo il tuo ragazzo. Ha provato a chiamarmi, ma non gli ho risposto perché ero troppo impegnata a chiamare Sky. Se avessi saputo che era con lei, gli avrei risposto. Beh, ora lo chiamo. Se Sky non mi risponde, almeno mi risponderà a lui. Speriamo che almeno lui ti risponda. Oh, bella, bellissima, Blair, finalmente ti ho chiamato cento volte. Che cosa è, Blair? Ciao, Blair. Sono con Sky, bella Blair. E forse... Brian non ha trovato la lettera perché lì c'è scritto perché Sky è con me. E l'hai scritto o no? Beh, proprio il motivo, no. Oh, gli ha scritto solo che sono venuta via con te? Blair, non ti preoccupare per me, starò benissimo con Norman. Sarà fantastico stare a Londra. Ma Sky, te ne sei andata all'improvviso, non hai detto nulla a nessuno. Neanche Jerry ne sa nulla. Neanche Easy, erano in cucina a fare merenda tranquillamente. Ma scusate, mi sono fatta così. Io colgo sempre l'attimo. Però ho lasciato una lettera a Brian. La letta. Metti in viva voce, Blair. Sky, ti metto in viva voce così parli con Brian. Sky, perché te ne stai andando a Londra con Norman, il tuo ex ragazzo? No, qualcuno è geloso qui. Ma tesoruccio, mica sarai geloso di Norman? Vuoi scherzare? Dai, per piacere. Ho colto l'occasione al volo. Brian, io devo riflettere. Devo staccarmi da quella vita. Devo allontanarmi da te e da Blair, da tutti. Per riflettere. E quale migliore occasione? Andare a Londra con Norman. Ci divertiremo un mondo. Blair, non ti preoccupare. Non stiamo via tanto, due settimane al massimo. Ma certo, anche perché c'è la scuola. Purtroppo non possiamo spassarcela finché vogliamo. Ma Norman, sarei dovuta venire io a Londra? O te lo sei già scordato? Blair, ma avevi detto di no per stare con me? Blair, Sky ha ragione. Mi avevi detto di no praticamente perché volevi stare con lei. Beh, insomma, ora le cose sono andate così e... Non so cosa dire. Tu non volevi venire. Adesso vuoi. Hai cambiato idea. Blair, guarda che ti lascio il posto. No, non voglio venire. Vai tu. Non ci posso credere. Ehi, Blair, sei mica arrabbiata con me perché sto andando a Londra con Norman? Sei gelosa? No, ma sono perplessa perché io... Ho rinunciato al viaggio con Norman per stare qui con te. E ora vai tu a Londra? Blair, è un'occasione che non posso lasciarmi sfuggire. Sai quanto adori viaggiare e poi te l'ho detto. Lo faccio perché sono arrabbiata con Brian. Devo riflettere. Devo allontanarmi da lui. Se voglio che il nostro amore abbia un futuro, lo faccio per il nostro amore, per il nostro bene. E poi, Blair, in realtà tornerò prima che arrivino i francesi o poco dopo. Tu saresti partita più tardi. È ben diversa la storia. E allora, Norman, mi spieghi perché hai anticipato il viaggio. Sarei venuta io a saperlo, se non c'erano ancora i francesi. Ma ti ho chiamato cento volte per dirtelo. E non mi hai mai risposto. Questo è vero. Ma mi hai risposto Sky. Io dovevo partire immediatamente, Blair. I miei genitori arrivano domani a Londra. Dovevo essere lì. Questo era l'unico volo disponibile. Non è facile prenotare all'ultimo. Così! Mi hai risposto Sky, invece. E lei ne ha approfittato. Spero tu non sia arrabbiata con noi. Ti prego, Blair, non esserlo. È stata una serie di coincidenze. O saresti partita tu? Credimi, Norman avrebbe preferito te. Certo, Blair, preferisco sempre te a Sky. Sei la mia bella, bellissima, Blair. Però tu non mi hai risposto. Questo è vero. Ok. Beh, Brian, devi dirle qualcosa. Io sinceramente non ho più nulla da dire. Sky! Sky, perché vuoi partire? Ti prego, non lo fare. Rimani qua. Dai, ho bisogno di te. Ma, tesoruccio, lo sapevo che l'avresti detto ed è per questo che non ho risposto alle vostre chiamate. Alle tue chiamate, a quelle di Blair. Non volevo che mi convinceste a rimanere lì. Io voglio viaggiare. E quand'è che mi ricapita un'occasione del genere? Ma Sky, dobbiamo risolvere. Noi, qui, parlandone a quattro occhi. No, Brian. Sai come? Dobbiamo risolvere la cosa. Come? Ti prego non dirmi lasciandomi. Assolutamente no. Tu sei il mio tesoruccio amoruccio. Non ti lascerei mai. Ti amo, Brian. E allora sono confuso. Lo sai che già non capisco le cose quando mi vengono dette? Ma ora mi confondi ancora di più. Quindi non mi vuoi lasciare, ma... Tesoruccio, dimostrami che sei un bravo ragazzo. Hai fatto soffrire Blair in passato. Ora voglio che tu riconquisti la sua fiducia. L'hai ferita tradendola con mia nipote. Non ci posso credere. Ma devi riconquistare la sua fiducia. Comportarti bene con lei. Perché Brian... Ora noi due stiamo assieme e devi essere una persona migliore. Ma Sky, guarda che a me non importa nulla di Brian. Credimi. Lo so, Blair, ma deve farlo per me. Deve dimostrarmi che è una brava persona. Che ci tiene e che non tradisce gli altri. E lo deve fare ricominciando da te. Brava, Sky, bravissima. È una bella cosa. Brian, non deludere, Sky, mi raccomando. E poi... Si tratta di trattare bene la mia bella bellissima Blair. Non è difficile. Sky, tu vuoi che io esca con Blair? Sì, uscite. Divertitevi. E farti perdonare da lei. Brian, devi scusarti. E togliere questa energia negativa che ora c'è tra voi due. Liberate questa energia, non la voglio sentire. Ogni volta che stavo tra voi due, sentivo che c'era qualcosa che non andava e ora capisco perché. È questo. Devi liberarti di ciò che hai fatto. Devi liberare questa cosa, questa energia malvagia. Tratta bene Blair. Falla sentire importante, mi raccomando. Così, noi tutti potremo vivere meglio e essere felici. Già. Neanch'io voglio sentire energia negativa. È brutta. Una brutta, brutta cosa. La mia bella Blair non la merita. Ora dovremo imbarcarci. Dobbiamo spegnere il telefono. Ma... Brian, ti prego. Pensa a ciò che ho detto. È molto importante per me. E al mio ritorno sarei di nuovo il mio tesoruccio amoruccio. Ma non voglio sentire quella negatività tra te e Blair. Risolvete i vostri problemi. Ben detto. Noi ora ce la spassiamo a Londra. Ciao, bella, bellissima Blair. Tesoruccio amoruccio, ci sentiamo quando atterriamo. Ti chiamo io. Ciao. Baci baci. Non ci credo. Devo uscire con te. Già, però a quanto pare ha ragione. C'è davvero energia negativa tra noi due. Non facciamo altro che litigare. Ha ragione Sky. Sky vuole che io e te diventiamo amici. A quanto pare per lei è importante. Beh, Brian, senti, io a questo punto sono a casa da sola stasera. I miei sono fuori città. Norma non c'è Sky neanche. Ti va di farmi compagnia? Beh, non a casa mia. Andiamo al dinner caffè, mangiamo una pizza. Ok, ma offri tu. Figuriamoci, ovvio. Dai, offro io e cerchiamo di andare d'accordo per una volta. D'accordo, ci proverò. Brava zia Sky. Easy, avevi ragione. Cherry, e tu da quanto sei qui? Beh, ho ascoltato tutta la telefonata. Ero curiosa e ho origliato. Ok, è una cosa di famiglia, a quanto pare. Comunque, zia Sky ha ragioni. Brian, devi risolvere questa cosa, questa energia negativa che c'è nell'aria. Guarda mio padre, che cosa è successo. Non ha detto nulla della sua relazione con le altre donne a mia madre. Ed ora stanno litigando per qualcosa che è accaduto in passato. Doveva essere sincero fin dall'inizio. E oggi questa situazione non ci sarebbe. Ora è a casa di Isabel e mia madre da sola, qui. Non è giusto. Brian, non devi fare l'errore di mio padre. Risolvi questa cosa, comportati bene. Perché altrimenti tu e zia Sky vi ritroverete a litigare in futuro per ciò che è accaduto in passato. Case, è così importante. Proverò ad andare d'accordo con Blair. È decisamente un'impresa, ma non ho nulla da fare. Quindi proviamoci. Norman, è un sogno per me essere a Londra. Ora, con te. Beh, grazie Sky per essere venuta. Avrei fatto una figurazza con i miei a venire qui da solo. Non sapevo davvero come uscire da questo imbarazzo. Ma cosa? Che vuoi dire? Che imbarazzo vuoi che sia? Beh, i miei genitori si aspettano serietà. Dico una cosa, deve essere quella. Io ho detto loro che li avrei visti con la mia ragazza. Norman, su via. Ti perdoneranno anche se non sei qui con Blair. Io adoro Londra. Oh, è magica. E poi mi ricorda i nostri bei vecchi tempi. Eh già, bei vecchi tempi. Insomma, poi sei fuggita. Ma lasciamoci alle spalle il passato. Chissà se Brian riuscirà a farsi perdonare da Blair. Devono assolutamente farcela. Io penso di sì, perché la bella Blair è tanto, tanto buona. È bella bellissima. È vero, è bella bellissima e buona. Andiamo a mangiarci qualcosa. Ci sarà un pub? Andiamo nel primo pub che troviamo. Sto morendo di fame. D'accordo, offro io. Mi raccomando, sei mia ospite. Non devi pagare nulla. Che sogno. Senti, Blair, ma non ti dà fastidio che Norman sia a Londra con Sky? Com'è? Eri gelosa di ogni cosa? Come mai non sei gelosa di Sky? Perché, Brian, tu non mi davi sicurezza, fiducia. Norman è leale. Non mi tradirebbe mai. Tu, invece, mi hai tradita numerose volte. Perciò, ovvio, ero gelosa per questo. Perché non mi fidavo di te, ma di Norman mi fido ciecamente. Quindi il problema ero io? Beh, diciamo di sì. Non ti sei comportato proprio bene con me, ma comunque è finita tra noi e non ti voglio rinfacciare nulla. Ma Sky ci tiene, vuole che ne discutiamo. Quindi, forse dovresti dirmi qualcosa. Cosa ti devo dire? Che sono cambiato. Sì, sei cambiato, ma magari mi dovresti delle scuse. Non pensi? Beh, ma il fatto che io non volessi farti soffrire, lo sai, non è stata proprio tutta cosa. È colpa mia. Litigavamo sempre e io non ne potevo più. Probabilmente mi innamoravo delle altre per questo. Già. Chissà se sei davvero cambiato con Sky. Ovvio che sì. Lei è il mio vero amore. Senza offesa, Blair, ma... È così. D'accordo. Senti, perché non parliamo d'altro? A rinfacciarci le vecchie cose, secondo me, non toglieremo questa energia negativa. Ti va di ballare? È una buona idea. Ok, perché non facciamo solamente cose che ci piacciono, divertenti, tipo... Potremmo andare al cinema. O potrei insegnarti ad andare sullo skate. Insomma, basta parlare di ciò che è stato il passato. Ricostruiamo un futuro. Mi piace. Costruiamo qualcosa di nuovo. Magari il tè nuovo mi piacerà. Allora? Andiamo? Andiamo. Sai, Brian, mi facevi così arrabbiare, ma... Ti ho amato veramente. Beh, nonostante tutto, ti voglio bene, Blair. Ehm, ecco, Sky, prima di andare a mangiare, devo chiederti una cosa importante. Beh, dimmi, Norman. Farei qualsiasi cosa per te dopo che mi hai portata qui a Londra? Davvero? Qualsiasi, qualsiasi cosa? Beh, più o meno, Norman. Che cosa c'è? Ecco, potrei aver fatto un guaio con i miei genitori, perché ho detto loro che sarei venuto con la mia ragazza per presentargliela. Ehm, ecco, loro pensano che tu sia la mia ragazza ora. Che cosa? Ok, la storia è questa. Loro si volevano fermare solamente un weekend, ma quando ho saputo che sarei venuto con la mia ragazza, hanno disdetto tutti gli altri impegni per fermarsi qui due settimane. Ma quando Blair mi ha detto che non sarebbe venuta, come facevo a dir loro che avevano disdetto i loro importanti appuntamenti per nulla? Perché la mia ragazza non sarebbe venuta? L'avrebbero odiata! Oh no, è vero! Così, quando ho saputo che Blair non sarebbe venuta, ho fatto anticipare ai miei genitori il viaggio per limitare i danni. E loro hanno accettato, ma poi tu hai deciso di venire, quindi non ho più detto la verità ai miei genitori, ma gli ho detto che tu sei la mia ragazza. Ma perché l'hai fatto, Norman? Bastava dire che eri qui con un'amica e che la tua ragazza era rimasta in Italia. Perché loro hanno iniziato a parlarmi di quanto contenti fossero di conoscere la mia ragazza. Lo sai che non riesco a dire di no ai miei genitori, non riesco ad impormi, non riesco a deluderli. Norman, di questa cosa ne dobbiamo parlare, perché non è giusto, ok? Però d'accordo, fingerò di essere la tua ragazza. È questo che vuoi da me, no? Sì, ti prego, Sky, fingi solo per queste settimane. E poi gli dirò che ci siamo lasciati e quando sarà il caso presenterò loro Blair, la bella bellissima Blair. Lo so che hai sbagliato, ma come posso deluderli? Dai, non posso, non posso dir loro che ho mentito. Ora sono andata troppo a fondo con questa bugia e non posso rimangiarla. Norman, le bugie hanno le gambe corte, ma per tua fortuna io sono un'abile attrice. Fantastico, Sky! Ma non pensare che io ti baci? Al massimo un abbraccio tenero d'amicizia. Ovviamente, sei la mia amica amicissima, Sky! Norman, sei così tenero che non riesco a dirti di no. Vabbiamo alla prossima! Ciao! Ciao!